esperienza la nostra metodologia è basata sul dialogo e lo scambio per favorire la rielaborazione dell'esperienza culturale e riflettere sul tempo presente interazione attiva e partecipata con il patrimonio culturale è sempre un'occasione di esperienza di formazione e di crescita della propria identità oggi la nostra esperienza sul campo è il punto di partenza per realizzare una didattica digitale a distanza che rafforzi l'esperienza educativa e l'incontro con la cultura